ariete la luna disarmonica oggi può sollevare sensazioni sotto tono mettendo in primo piano le problematiche del momento infatti le questioni di lavoro presentano una serie di rallentamenti di stop che non fanno progredire i vostri programmi dovrete probabilmente cambiare o eliminare qualcosa toro oggi prevale il buon umore e avete la possibilità di far valere le vostre ragioni il quadro astrale è positivo e vi induce a consolidare un rapporto una posizione lavorativa in ogni caso avete nelle vostre mani la possibilità di decidere con fermezza e lucidità del vostro futuro gemelli iperattivi e irrequieti in questi giorni meglio non agire con impulsività e non essere troppo insofferenti con chi frequentate la sfera sentimentale ancora vi sorride ma potreste creare qualche disagio con la vostra instabilità non date tutto per scontato cancro la luna nel segno pone l'accento sulla vostra emotività ma non riesce a trovare una strada non agevole perché si scontra con un accumulo planetario in aspetto di opposizione e scombina un po i vostri piani pone dei limiti che a volte non accettate di buon grado occorre pazienza e lungimiranza leone un buon dinamismo rende vivaci queste giornate attiva il vostro impeto battagliero tuttavia siete un po lontani dalla stabilità e dal sentirvi gratificati venere dissonante inquina le relazioni amorose ed anche la vostra armonia interiore dovrete cercare un equilibrio durevole vergine giornata positiva che concentra la vostra sensibilità su tutto ciò che ispira la creatività è un periodo di passioni vissute come fiducia e speranza per un progetto in corso state dando vita a una parte nuova di voi stessi e tutto questo vi diverte vi rende giocosi bilancia la giornata appare piuttosto nervosa siete impegnati in questioni pratiche e spigolose che riportano in alto problematiche di carattere lavorativo o familiare tuttavia qualcosa si muove anche in senso positivo così come la vostra capacità di affrontare con piglio deciso ciò che vi infastidisce scorpione l'andamento del quotidiano è vissuto col buon umore in un contesto astrale che mostra qualche difficoltà in campo sentimentale e la possibilità di dover tener testa a fatti spiazzanti tuttavia possedete una grande capacità di elaborare programmi ambiziosi e vantaggiosi sagittario la vostra natura solare e impetuosa viene esaltata da marte di passaggio nel segno che vi rende audaci e passionali le faccende di cuore sono privilegiate ma non approfittate troppo di questa fortuna movimento nel settore economico meglio tenere sotto controllo i vostri beni capricorno oggi la luna si pone in aspetto di opposizione e può disturbare l'umore potete instillarvi dubbi e nervosismo l'assetto astrale che vi riguarda però è di ottima qualità e vi sprona a trovare le migliori soluzioni ai vostri problemi o aspettative otterrete facilmente ciò che desiderate acquario state attraversando una fase benevola che pone in risalto la vita sociale la convivialità e le faccende amorose vi inclina insomma a vivere con più autoindulgenza non avrete ottenuto proprio tutto ciò che avete sperato ma siete soddisfatti in fondo pesci è una buona giornata che vi vuole in sintonia con tutto ciò che fate in questo periodo dall'aiuto a chi ha bisogno alla intensificazione di rapporti amichevoli al consolidamento della vostra attività ma ancora devono arrivare miglioramenti proposte e novità gradite buone stelle